Non mi avete visto fino ad oggi, e non mi vedrete nemmeno d'ora in poi, rispondere al chiacchiericcio di chi vuole sporcare questo progetto con una battaglia nel fango di basso livello Noi di Italia Viva pensiamo che non si faccia politica con i sondaggi e i veti, ma con le idee e i voti Queste le parole di Matteo Renzi nella sua News, dove esprime soddisfazione per la lista per gli Stati Uniti d'Europa, in vista delle prossime elezioni europee Non abbiamo messo veti, non abbiamo accettato veti, chi vuole dare una mano e il benvenuto, purché si ragioni del sogno europeo e non di piccole ossessioni personali Dunque, l'ex premier prende la mira ed apre il fuoco contro il Nazareno Il PD che insegue il Movimento 5 Stelle va in debito d'ossigeno Perché? Perché Giuseppe Conte ha un unico obiettivo, distruggere il PD E il PD sembra vittima della sindrome di Stoccolma Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter Da Bari a Torino il glorioso partito riformista di una volta sembra farsi dettare la linea dal grillismo che a sua volta segue la direzione illuminata tracciata dagli statisti del Fatto Quotidiano Verrà presto il tempo in cui il ricordo dei nostri anni, coperto per molto tempo dalla lettera scarlatta del marchio di infamia, si tramuterà in nostalgia Punto la base del PD, prosegue Renzi, prima o poi si ricorderà che c'è stato un tempo in cui noi dettavamo la linea e gli altri seguivano e non come oggi quando il Movimento 5 Stelle detta le danze La vera sconfitta del metodo di Michele Emiliano non è legata a un singolo episodio o a una inchiesta penale Michele Emiliano è stato il primo a teorizzare che si dovessero copiare i grillini Su TAP, su Ilva, su Buona Scuola, su Zailela, il governatore pugliese ha tracciato una linea e piano piano il resto del PD lo ha seguito Il triste risveglio pugliese aiuterà a capire che il PD ha un futuro solo se smette di fare la sesta stella e torna a fare il partito riformista Sara Capace? Bella domanda! Nel frattempo l'unica alternativa alla destra sovranista e alla sinistra populista siano noi Non è poco Grazie a tutti Grazie a tutti